Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno del lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati. È diritto di chi è attaccato a difendersi, ma sono molto preoccupato per l'assedio totale in cui vivono i palestinetti a Gaza, doveppure ci sono state molte vittime innocenti. Grazie a tutti.